bella a tutti ragazzi da Sampo 23 eccoci qua su Worker and Resource Soviet Republic ragazzi siamo su Steam PC ragazzi allora come sempre volevo ringraziarvi per il vostro supporto perché vedo che è un gioco che vi piace è bello mi piace anche a me un sacco e c'è ancora un sacco di cose da fare siamo al 7 dicembre 1960 controlliamo un momento qua nei campi cinque tonnellate di 30 fatemi capire o qua stiamo andando bene perché i camion adesso stanno facendo il loro lavoro qui ovviamente stanno facendo il loro lavoro che a questo manuale non c'è tutto a posto produzione di tutto funziona correttamente pompieri ci stiamo ospedale personale 19 non ci sono medici i lavoratori un'istruzione superiore ok nessun problema ragazzi questo gameplay qua come potete vedere volevo fare appunto siccome qua c'è una una zona che avevo già predisposto volevo fare quindi ragazzi in costruzione in istruzione quindi gli studentati università di medicina università tecnica e la sede del partito comunista dobbiamo farle tutte tre ragazzi quindi diciamo di metterle le metteremo magari qui così siamo vicini al qua perfetto giù i rubli che se ne vanno e vai dai e ok allora questa l'abbiamo fatta dopo ci facciamo l'università tecnica ragazzi io direi di metterla qui così così speriamo che dopo la strada me la fa piazzare perché veramente io già io già già ci già secondo me dai e ok e la sede del partito comunista non state dirmi perché che cosa che scopo ama qualcosa deve fare hai bisogno di un terreno pianizzante e questo che cos'è ok dai dammi verde dai e con un po perfetto ok ragazzi adesso costruiamo tutte le strade è quello che ci serve quindi strade ovviamente queste qua queste strade qui io spero che vedete già qua però fino qui me la fa quindi basta che adesso spero che mi colleghi sì questa me la collega questa non me la corregherà mai dai e però è allora facciamo così demoliamo fino a qui devo vogliamo qui e speriamo che ok 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 quasi era venuto verde ecco ok ragazzi siamo connessi adesso demoliamo questo pezzo perfetto ora adesso quindi dobbiamo andare con questa strada dobbiamo andare fino no 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 che ho fatto no costruire che demolire andiamo fino a qui qui usciamo di qua ok così dai dai che lo puoi fare che ce la fai ok qui vedete però piano 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 ce la faremo come discesa troppo ripida ragazzi ok facciamogli fare una ok almeno qua ci siamo uniti qui facciamo così è prima o poi ci dovremmo unire anche qua è dai era venuto dai è però ok facciamo così giriamoci e dopo dobbiamo dargli corrente è tutto ragazzi fatemi sistemare ok allora ho sistemato tutto ragazzi dovrei un momentino adesso rimettere una bella piattaforma per autobus la mettiamo qua mettiamo qua così così li sono tutti vicini perfetto ovviamente creiamo le strade che si uniscono dai e non iniziare che lo so che lo puoi fare perfetto ok quindi adesso mettiamoci il percorso pedonale ragazzi questo 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 vabbè questo lo lasciamo così perfetto ok abbiamo unito adesso prendiamo un bus ma adesso è venuto un'altra idea ragazzi perché secondo me la gente si lamenta che non può raggiungere gli ospedali perché perché secondo me ragazzi non ci sono adesso io comprerò tre autobus questi uno due tre e li facciamo andare solo nelle strutture quindi li facciamo fare aggiunge percorso da qui allora tu vai al centro commerciale negozio qui qui scuola asilo ospedale caserma no qui no e cinema ovviamente anche qua 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 qui e poi andiamo in delle fermate grandi durata massima del programma ok vai bello a lui va perfetto quindi tu vai invece da eh si buongiorno allora tu prendi parti da da qui poi vai qui 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 poi vai qui 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 poi vai qui 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 la c'è qualcosa che non quadra va beh sistemeremo qui 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 e ultimali perfetto vai poi l'altra anche caspeterina quanta gente sta andando a scuola oh cavolo istruzione superiore ah ok no tutto va tutto funziona ragazzi allora alimentazione elettrica vero vero ragazzi mi manca la corrente elettrica allora quindi dobbiamo andare noi adesso su infrastrutture media tensione ci spariamo questi allora ovviamente qua ci metteremo un'altra un interruttore della media tensione in modo tale che così possiamo dargli la corrente qua perfetto magari eh no così eh ci metteremo una sottostazione lì se ci sta vediamo un po' se ci sta momento no 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 fermo lì allora quindi se io la piazza qua ok becco tutto 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 ok speriamo che funzioni allora quindi sottostazione impossibile a causa l'infrastruttura maledetto ma qui va bene impossibile costruire a causa l'infrastruttura momento ragazzi bisogna fare ok terreno pianeggiante vabbè vabbè diciamo che così dovrebbe prenderle tutte ok è andata è andata è andata adesso ci prendiamo prendiamoci i nostri cavi della media tensione ragazzi e lo tiriamo qui perfetto e adesso ci prendiamo uno da qua ci lasciamo lì e in teoria adesso abbiamo tutto ok allora facciamoci il rischio eh personale allora noi adesso ragazzi ci facciamo eh durata 700 giorni di lavoro e vabbè quindi ricerca rispondibile facciamoci la chimica perché ci serviranno ragazzi le industrie aumentare il numero di ricercatori vabbè facciamo così 45 personale vedete sta arrivando la gente momento che devo fare un po' di fermate del bus allora facciamoci un po' di fermate del bus fra un po' è Natale tra l'altro ragazzi fra un po' è Natale però io addirittura ci metterei proverei a mettere anche gli studentati vediamo un po' se funzionano perché vediamo un po' istruzione studentati 65 lavoratori 65 lavoratori 20.000 28.000 prendiamoci questo qua costa di meno allora quindi io lo metterei ok lì non prende la corrente e ce lo piazziamo qui vediamo un po' ok perfetto così siamo proprio attaccati alle scuole no ferrovia ma strade quindi ti prego fammi unire perfetto percorsi pedonali da qui a qui e da qui che ne so lì perfetto ok vediamo un po' non ci sono studenti questo stella beh arriveranno dai quindi io mi prenderei ancora una corriera ah no ancora una qua da fargli fare il giro ok quindi tu devi andare facciamogli fare le fermate più più belle da qui a qui poi vai qui poi vai qui che c'è sempre tanta gente e qui vai perfetto allora qui come siamo messi qua magazzino perfetto solo 7 lavoratori però caspita non è che va tanto però qua siamo a 0 proprio però ho messo a tanti terreni eh ragazzi vedete questo che sta facendo questo ha 6 tonnellate di culture perfetto qui sta crescendo perfetto abbiamo i nostri terreni ragazzi ok quindi in teoria sembra funzionare tutto questa stazione un po' troppo affollata ma aggiungiamogli un po' di fermate a questo che ne fa solo due quindi tu va andrei anche qui qui poi qui e mannaggia mi sono dimenticato quella vabbè qui qui e qui perfetto adesso il sistema un po' di di corriere così abbiamo più cose in movimento ok allora quindi ragazzi vediamo un po' sì siamo a posto qua vediamo un po' studenti personale qua funziona tutto commissario politici neanche per uno studente in attesa di commissario politici 6 vabbè non so come mai non ci sono vabbè qua il personale c'è la ricerca sta andando avanti ragazzi università tecnica università di medicina va bene studente di auditorio sta molto bene ho sistemato tutte le ragazze le fermate adesso vedete ci sono anche degli autobus che andranno che vanno anche proprio vedete nella sede vediamo quanta gente sale e scende 0 0 vabbè forse perché sono l'importante è che ragazzi siamo tutto a 200 metri 100 metri perfetto ok ragazzi quindi diciamo che mi fermo qui ragazzi quindi come sempre se questo video vi sta piacendo vi invito a mettere mi piace ragazzi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti